Creatività e guardare lontano. Pensare nuove soluzioni. Cambiare punto di vista. Analisi e pragmatica. Risultati tangibili. Verificati. Dal loro cognodio nasce Milan Media House. Una fucina creativa generatrice di idee capaci di coinvolgere, interessare ed affiliare target sempre più raffinati. Nel laboratorio di esperienze digitali i prodotti vengono declinati in differenti canali di distribuzione, analizzati e perfezionati in base al feedback dell'audience. L'erogazione multicanale permette ai contenuti di valore di essere sempre accessibili grazie a piattaforme dedicate, progetti di programmatic video e accordi con top publisher di Spicco. Milan genera un universo di riferimento nel quale gli utenti si identificano, partecipano e si fanno loro stessi portatori di valore. Da qui un circolo virtuoso. I followers vengono sedotti e coinvolti quotidianamente, innescando così processi member get member, efficaci e proattivi. Tutto questo è reso possibile da una struttura solida, dinamica e d'avanguardia, un nucleo vibrante, in casa Milan. In questa fabbrica di idee, le esperienze real life si estendono al mondo digitale, confezionando prodotti multimediali, unici e competitivi.